Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come avrete notato sono alcune settimane che non sono uscito con nuovi video. A cosa è dovuto questo? È dovuto al fatto che mi sono imbattuto in un lavoro molto grosso. Infatti sto ristrutturando la vasca dei pesci. Nel giardino ho una vasca vecchia fatta in cemento che perdeva e adesso mi sono deciso a sistemarla. Quindi è un lavoro grosso. Chi mi segue anche sugli altri social avrà visto le foto che ho messo. È un lavoro molto grosso che comporta un sacco di fatica e come sono solo a farlo e allora procedo piano piano. Non solo. La cosa insomma richiede parecchio tempo soprattutto anche per la progettazione per cercare di fare le cose insomma meglio possibile. Anzi fatemi sapere magari qui nelle note se vi interessa vedere anche qualche filmato sulla costruzione insomma di questo laghetto per i pesci. E niente oggi piove e quindi stavo facendo mettendo un po' a posto le cose e avevo trovato un po' di tempo fa girando facendo i miei giri col cane. Ho trovato un bidone aspiratutto questo che era buttato lì da una parte in civiltà purtroppo della gente non conosce diciamo limiti e allora ho detto ma lo porta a casa intanto lo levano da giro poi se non funziona la butterò via io. Invece ho visto che il motore funziona pertanto insomma c'erano delle cose da sistemare ve le farò vedere questo breve video soprattutto per l'attacco che mancava per il tubo. Quindi ho ritenuto giusto fare un piccolo video anche per farmi vedere che ci sono sempre come diceva Scorossi siamo ancora qua e quindi siamo ancora qua vi ho fatto questo piccolo video dove vedrete insomma come sistemo questa cosa soprattutto per quanto riguarda l'attacco del tubo. E niente vi saluto con le solite diciamo raccomandazioni iscrivetevi al canale condividete video sostenete il canale guardandolo e basta perché io non ho nessun ritorno economico come sapete però insomma mi piace condividere con voi e la mia passione insomma quello che faccio. Saluto a tutti e ci vediamo naturalmente ai prossimi video sperando che non piova e si possa andare avanti con i lavori. Ciao a tutti buon video 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 Ciao a tutti buon video